good morning juventus il good morning è la sveglia del mattino ma stamattina io non voglio dare la buona sveglia a voi voglio dare la sveglia al nostro allenatore max allegri max allegri svegliati svegliati basta esperimenti basta basta mettere in campo de ciglio basta mettere in campo betancourt basta mettere in campo mccenni basta mettere in campo rabbio capisci metti in campo i giocatori che ti possono aiutare per rimontare per fare qualcosa di discreto ieri come diciamo noi a parma hai mangiato un gatto vivo ti è andata di culo ti è andata di culo che hai vinto la partita non meritavi di vincere se scesi non fa un paratone sul 3 a 2 porti a caso un altro pareggio squalvido a tutti quelli che dicevano che la partita con il malmo era una partita facile lo spezia più forte del malmo non credo non credo che lo spezia sia più forte del malmo perché a malmo hai giocato bene hai messo in campo i giocatori giusti tu invece fai esperimenti e con gli esperimenti caro allegri sai cosa tieni niente danni danni e soltanto danni io non mi dilungo più è inutile che io spenda altre parole perché altrimenti rischio di rovinarvi la giornata ed è l'ultimo credetemi è l'ultimo dei miei pensieri io vi dico solo questo ringraziamo chiesa ed elite come ho detto ieri sera che siamo a cinque punti perché quelli che lui non voleva far giocare che non ha fatto giocare con il napoli non ha fatto giocare con il milan ci hanno fatto fruttare tre punti quindi riflettiamo sull'allenatore che abbiamo in panchina non vorrei che i due anni di fermo lo abbiano orugginito good morning juventus